E di due vittorie nel calcio e una sconfitta nel basket il bilancio delle squadre licatesi impegnate nell'ultimo fine settimana sportivo. Una rete di Vennero a quarto d'ora permette a Licata di piegare l'Aragone e di continuare ad alimentare le speranze di rimonda in vetta nei confronti della capolista Nissa, anche lei vincitrice contro il Castel Termini. Prosegue la striscia vincente al Dino Liotta per gli uomini di Mister Mimmo Bellomo che tra le Muramiche quest'anno hanno finora lasciato solo i due punti contro il Ragusa nel match inaugurale della stagione. Gello-Blu che hanno collezionato diverse palle gold non riuscendo però a chiudere il match. La squadra riprenderà ad allenarsi domani pomeriggio. In tribuna ad assistere al match c'erano anche gli infortunati Ortugno e Bonvissuto. All'attaccante mercoledì verranno scuciti i tre punti di sutura applicati all'ospedale di Caltanissetta dopo l'entrata subita nell'ultimo match di campionato. Dopo bisognerà capire come risponderà l'Arto e pertanto la sua presenza per la trasferta in casa della Polisportiva Palma rimane in dubbio. Bella vittoria esterna per l'Atletico Licata in terza categoria. Gli uomini di Mister Ghettano Profumo piegano 2-1 all'Acropolis Agrigento. Le tre reti maturano tutte sul finire del primo tempo con l'Atletico in vantaggio al 35esimo compinto, pari ospite tre minuti più tardi prima del 2-1 finale di Zarbo. Nel basket battuta d'arresto esterna per la studentesca vivere e viaggiare. Il roster di coaccettore Castorina, malgrado una buona condotta di gara, esce sconfitto dal campo della Virtus Canicatì che passa col punteggio di 93-81. Capitano Alfredo Falanca e compagni domenica prossima ospiteranno al Palafragapana e la retusa Siracusa.